Il primo piano di un calcolo sono tutta modesta essenzialmente modesta Luca? ha un bezzo risolissimo molto risolino Luca prende in braccio Fabio si sta allenando povera ragazza un attimo della dura attenzione ma è troppo oscuro non viene niente così va bene così va bene no no Fabio ciao 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 ciao